Con parecchi secoli di anticipo rispetto a Carlo Marx, Platone nel primo libro della Repubblica già smascherò il dispositivo dell'ideologia. Il primo libro della Repubblica di Platone, intitolato secondo alcuni interpreti Trasimaco e di per sé costituente forse un libro autonomo rispetto all'impianto dei dieci libri della Politeia, verte sul tema della giustizia. Gli interlocutori si trovano al Pireo, in posizione declinante rispetto all'acropoli, quindi nella parte bassa della città, ciò che anche metaforicamente segnala la necessità di scendere, sporcarsi le mani, scendere dall'iperuraneo per impastarsi di concretezze e di conflitto nel luogo più basso della polis. Gli interlocutori discutono sul tema della giustizia, mentre Socrate sta discutendo come una fiera incontenibile balza nella discussione il sofista Trasimaco, che fino a quel momento si era trattenuto sia pure a fatica e che a un certo punto non riesce più a contenere il suo impeto e balza nella discussione. Non avete capito nulla di che cosa sia realmente la giustizia, dice Trasimaco. La giustizia non è altro che l'utile del più forte. L'utile del più forte, questa è la giustizia. Poco importa che le città siano democratiche, aristocratiche, monarchiche. In ogni caso, in ogni polis, la giustizia è sempre ciò che coincide con l'utile del più forte. Questo vuol dire che non c'è una giustizia universale come vorrebbe Socrate, non c'è un concetto di giustizia universalmente valido. Ciò che si pretende tale non è altro che l'utile del più forte, presentato come se fosse giusto in universale. Al di là delle argomentazioni di Trasimaco e delle risposte fornite poi da Socrate, è qui interessante rilevare che con questo argomento Trasimaco anticipa la tesi che sarà di Carlo Marx e dei suoi epigoni variamente eterodossi. Quello che noi chiamiamo giusto non è altro che l'utile di una parte, l'interesse di una parte, che falsamente si contrabbanda come interesse della totalità. L'ideologia, cioè ci suggerisce Trasimaco prima di Platone, corrisponde sempre a una dinamica di falso universalismo in virtù del quale l'interesse del particolare, l'utile del più forte, si nasconde, occulta la propria natura parziale, di parte, di classe, di gruppo, presentandosi falsamente come universale e quindi come valido per la totalità, per l'intero. Questo è il dispositivo tipico dell'ideologia come falsa universalizzazione del particolare. L'ideologia, ogni ideologia, ci suggerisce Trasimaco, Carlo Marx ante litteram, ha sempre come proprio quid proprium il fatto che, per così dire, si pone come imperialismo di un universale che in realtà è il particolare. L'ideologia è sempre un universale imperialistico che contrabbanda e impone come valido per l'intero ciò che è tale solo per la parte. Pensiamo anche solo, per attualizzare il discorso di Trasimaco, alle guerre imperialistiche che oggi si propongono come missioni di pace o come missioni di esportazione dei diritti umani. L'interesse della parte si presenta come valido per la totalità e diventa uno strumento di aggressione. Come dirà anche Antonio Gramsci nei quaderni del carcere, l'Occidente, l'umanità è sempre l'Occidente. Chi dice umanità dice in realtà Occidente, veicola come universale il particolare, imponendolo spesso con metodi tutto forché idillici. Ecco, abbiamo qui allora, nel primo libro della Repubblica di Platone, mediante quel personaggio filosofico che è Trasimaco, il sofista irruente, che non rispetta il ritmo della discussione, che aggredisce come una fiera Socrate, abbiamo la tematizzazione dell'ideologia. Ed è tutto forché estemporaneo il fatto che Trasimaco sia presentato in questa maniera, come una fiera, come un aggressore, come colui che spezza il ritmo dialogico, discorsivo, democratico della discussione. L'ideologia riguarda l'interesse del più forte, che non ha alcun interesse a dialogare e a impostare una questione dibattuta secondo il metodo dell'Ogon di Donai. L'aggressore, il potente, colui che ha la forza dalla sua, impone il proprio argomento, il proprio utile, presentandolo senza tante discussioni come l'utile di tutti, come il giusto in sé per sé. Va da sé che poi nel seguito della discussione, per i restanti nove libri, con il tentativo di delineare la Callipolis, la città giusta, Socrate proverà a rovesciare l'argomento di Trasimaco. Quello che tu dici, Trasimaco, può essere vero se consideriamo, diremmo noi, l'ideologia, cioè il falso concetto di giusto, il giusto che in realtà è l'interesse della parte. Dobbiamo però cercare il giusto in sé per sé, catautom, il giusto in sé e per sé, che non è l'interesse della parte, l'utile del più forte, ma è ciò che vale per tutti autenticamente, il vero universale contrapposto al falso universale, che chiameremmo con Carlo Marx ideologia. Ecco, l'ideologia è sempre un falso universale, è il particolare che si universalizza falsamente per occultare la propria genesi particolare e la propria validità particolare. L'ideologia ha sempre genesi e validità particolari e tende però a nascondere la propria validità particolare presentandola come falsamente universale.